ecco invece uso l'ora che ci rimane o i 55 minuti che ci rimangono per cominciare ad aprire il prossimo argomento allora ricordiamo che sui sei macro argomenti capitoli del corso siamo quattro ok siamo due terzi del percorso un po prima come tempo giustamente perché abbiamo bisogno di un po di tempo alla fine per fare un po di esercizi modello delle classi modelli processi diagramma dei casi d'uso narrativa dei casi d'uso quattro le altre due che ci rimangono sono progettazione dell'interfaccia utente e indicatori quantitativi di processo che ipi che faremo alla fine allora il primo il prossimo capitolo è quello sul progettazione dell'interfaccia utente quindi fare un passo avanti rispetto ai casi d'uso casi d'uso ci dicono qual è l'informazione che viene scambiata adesso cominciamo a preoccuparci su qual è il modo effettivo concreto in cui con cui questa informazione può venire scambiata cominceremo a mettere nero su bianco ciò che finora abbiamo detto ma senza voler scrivere senza volerci impegnare nel cercare di ragionare su come funziona questo sistema informativo abbiamo sempre pensato in termini di l'utente sarà davanti a un computer dove c'è un bottone che deve schiacciare però poi la parola bottone non l'abbiamo mai scritta perché magari un bottone magari un immagine magari un link magari una parola detta magari il fatto che lui passi davanti a un sensore che dà quell'informazione adesso cominciamo a chiederci questo allora prima di entrare effettivamente nella progettazione dell'interfaccia utente quindi come il sistema deve rappresentarsi all'utente in modo che l'utente capisca cosa deve fare e lo faccia nel modo migliore possibile cioè senza errori e sprecando meno tempo possibile per cui non stiamo progettando un videogioco oppure un enigma per cui devi effettivamente trovare la soluzione no deve essere un sistema che deve essere produttivo ok quindi la facilità d'uso è fondamentale sia in termini di efficienza sia in termini di impedire che l'utente faccia degli errori se è un sistema complicato da usare probabilmente gli utenti tendono a sbagliare o comunque per farlo giusto ci mettono più tempo quindi noi vogliamo abbiamo questi due grossi nemici l'utente che sbaglia fa la cosa sbagliata e quindi il sistema poi deve recuperare si perde tempo si rischia poi di propagare questo errore più avanti nel processo produttivo oppure comunque un processo che è pesante per l'utente e quindi facevo prima a farlo a mano no? è una mentira che spesso si sente quando si introducono delle innovazioni di questo tipo allora per prima di arrivare lì dobbiamo fare una piccola parentesi sulle tecnologie web perché di fatto nel 90% dei casi quando parliamo oggi nel 2017 ma anche nel 2015 di un sistema informativo aziendale stiamo parlando di un sistema informativo che abbia un'interfaccia web poi ultimamente molti di questi sistemi hanno anche un'interfaccia mobile quindi delle app mobili però non vogliamo qua complicare troppo il concetto allora per pensare a come deve essere fatta l'interfaccia verso l'utente sapendo che questa interfaccia va a finire dentro un browser abbiamo bisogno di capire un pochino di più come funziona un browser, come funziona un sito web adesso alcune di voi hanno già fatto il corso per dire l'anno scorso di Lioi quindi queste cose che sto per raccontarvi in buona parte le sapete già se vi annoiate non mi offendo se uscite perché magari le avete già sentite ma ci serve questa infarinatura tecnologica diciamo per capire che cosa non può essere fatto da un sistema web quali sono i vincoli con cui possiamo progettare l'interfaccia utente non ce ne possiamo inventare chissà come perché sotto sotto ci sei una tecnologia che è quella non la posso cambiare allora fatemi andare qua io parto da questo grafico che ha l'unico grosso difetto che non è più stato aggiornato da molti anni di questo sito per farvi capire cosa vuol dire dal punto di vista tecnico lavorare in ambito di tecnologie web allora cos'è sta roba qua vabbè non è poi così complicato come sembra da leggere vediamo se lo metterò a schermo pieno eccolo qua allora questo grafico qui ha vedete in ascissa gli anni si ferma purtroppo al 2012 per cui gli ultimi 5 anni non è più stato aggiornato da chi ha costruito questa cosa e parte dal 1991 allora nel 91 il web non esisteva punto voi di che anno siete? 94, 95 quindi siete già nati qua pochi anni prima non esisteva nulla di tutto ciò che stiamo dando per scontato c'era internet ma su internet non c'era il web c'erano gli siti FTP qua e là c'era già la posta elettronica negli anni 90 all'inizio degli anni 90 e basta quindi partiamo da lì il web è stato inventato infatti si sono celebrati l'anno scorso nel 2016 i 25 anni del web 1991-2016 è stato inventato da Tim Berners-Lee in Svizzera al San di Ginevra come uno strumento per permettere ai fisici di scambiarsi tra di loro più rapidamente i risultati degli esperimenti che facevano con i loro atomi con le loro particelle subatomiche e quelle cose lì brutte che fanno i fisici e quindi ha inventato una piattaforma di scambio di documenti questa piattaforma di scambio di documenti si basava su due tecnologie che sono la tecnologia HTTP e la tecnologia HTML HTML com'è? è un formato per scrivere i documenti diciamo perché non l'ha fatto in PDF non esisteva ancora PDF Adobe non l'aveva ancora inventato perché non l'ha fatto in Word? eh ma perché Word era una schifezza che funzionava sia e no su Windows 2.5 o qualcosa del genere non tutti ce l'avevano e sicuramente chi lavorava sulle workstation del CERN non aveva Word sui propri computer e quindi ha dovuto inventarsi un formato di testo semplice universale che potesse essere letto dai computer di tutti i laboratori senza che nessuno di costoro fosse costretto ad avere un programma specifico di Word Processing di scrittura e quindi si è inventato questo linguaggio HTML che è un linguaggio di formattazione molto semplice che permette di definire un testo dei paragrafi dei titoli inserire delle figure e cose di questo genere e il protocollo HTTP che è un protocollo direi a livello applicativo che si basa sulla rete internet che ha essenzialmente un comando solo è un comando attraverso cui non è vero che ne è uno solo ma essenzialmente sì ha un comando attraverso cui un computer può chiedere ad un altro computer dammi un documento che hai tu questo comando si chiama get autoesplicativo dammi quello get quel file lì quindi questa coppia di tecnologie ha permesso di costruire i primi siti web cioè dei siti che avessero al suo interno una serie di file spesso in formato HTML e questi file fossero accessibili ad altri computer che li richiedessero nel modo giusto cioè attraverso il protocollo HTTP poi vediamo un flash su che cos'è l'HTTP che lo scriviamo 12 milioni di volte ma a volte non sappiamo di cosa si tratta queste sono le tecnologie se noi andiamo a vedere questa questa forma ondulata che nasce ad esempio da HTTP e ci spostiamo nell'asse dei tempi vediamo che HTTP evolve attraverso varie versioni quindi qui c'è l'HTTP dove è la 1.1 da qualche parte dovrebbe esserci non la vedo più vabbè tanto per dirvi HTTP è uno degli standard più di successo che io conosca forse quello che ha avuto più successo è il fatto che la corrente elettrica sia 220 volt e 50 Hz l'hanno inventato nel 1991 versione 1.0 l'anno dopo non lo vedo è nata la versione 1.1 e da allora continuiamo a utilizzare quella quindi da 25 anni con lo standard che definisce l'HTTP tiene in piedi internet e non l'hanno ancora dovuto cambiare HTML invece ha subito molte più variazioni e le vediamo da questi rettangoli vedete che l'HTML 1 poi è uscito l'HTML 2 3 3.2 HTML 4 adesso stiamo lavorando in HTML 5 quindi questi blocchi che si inseriscono in questo flusso indicano le evoluzioni di una determinata tecnologia questi blocchi intersecano delle linee orizzontali che sono i browser quindi dicono che l'HTML 2 è stato supportato da Netscape per la prima volta nella versione 0.9 nel 1994 è stato supportato da Internet Explorer dove è l'HTML per la prima volta nella versione 2 nel 96 e così via quindi le righe orizzontali sono i vari browser questo è il primo browser del mondo si chiamava Mosaic è durato pochi anni poi le persone che hanno fatto Mosaic che lavoravano all'NCSA che è un centro di supercalcolo americano si sono messi da parte si sono licenziati hanno fondato una società che si chiamava Netscape che per un po' è diventata milionaria e ha creato un primo browser poi è arrivata Opera poi è arrivato Internet Explorer poi molti anni più tardi sono arrivati Safari Firefox che è rinato dalle ceneri di Netscape vedete che poi Netscape qua è stato abbandonato e morto e nel frattempo è nato Firefox come prodotto open source e molto più tardi ancora è arrivato Chrome che noi tutti diamo per scontato che sia quello più recente il migliore o giù di lì in realtà è l'ultimo arrivato non l'ultimo l'ultimo perché come dicevo mancano gli ultimi 5 anni quindi vari browser man mano che sono nati nascono a volte muoiono e man mano che vanno avanti supportano nuove tecnologie vabbè questa è la natura delle cose succede prodotti che che non si inventano ogni volta una tecnologia nuova non è che arriva Chrome e dice ah adesso l'HTML me lo reinvento lo facciamo diverso no devono sottostare le stesse standard che già ci sono da 20 anni e già i loro concorrenti gli altri browser supportano perché non puoi arrivare tu domani dicendo ho inventato un browser nuovo però carissimi quelle 50 miliardi di pagine web in giro per favore modificatele perché il mio browser vuole dei comandi leggermente diversi no? non è sostenibile la forza di internet è del web e sono i suoi contenuti e quindi se tu vuoi entrare devi giocare le regole del web devi giocare con gli standard opportuni ci hanno provato dei signori qua in mezzo tipo Microsoft a cambiare le regole e inserire le tecnologie proprietarie ma hanno dovuto far marcia indietro l'altro messaggio che voglio lanciarvi qua è che ogni tanto nascono nuove tecnologie javascript senza la quale oggi non ci sarebbe più nessun sito web che funziona è stata introdotta nel 1996 è stata lanciata per la prima volta da Nescape col suo browser poi è arrivato Java poi è arrivato Flash come metodi per fare i siti web interattivi Flash per fortuna tra un po' ne celebreremo il funerale nel senso che l'Adobe stessa ha detto non lo supporto più è stato il male del web per tanti anni e poi una cosa che si chiama Ajax che vedremo per fare le pagine web interattive e poi arrivano i CSS cioè i fogli di stile in modo per fare delle layout un pochino più belli da vedere e così via e ogni tanto se ne inventano una allora il problema qual è? che se ne inventano una ma tutte le nuove tecnologie che che compaiono si aggiungono a quelle precedenti non le vanno mai a sostituire quindi oggi se voi traguardate questo grafico a un determinato anno non so 2012 quanti tecnologie diverse intercettate? eh 20 ecco non dico che tutte e 20 devono essere presenti su tutti i siti ma se non sono 20 sono 18 quindi chi lavora oggi nel campo web lavora in un campo estremamente maturo che però si fonda su una molteplicità di tecnologie diverse era bene nel 91 che dove si conosce solo l'HTML e basta invece adesso una qualunque applicazione web è una combinazione di molte tecnologie diverse e bisogna conoscerle un po' tutte per poter lavorare in questo campo non puoi scegliere quali servono tutte perché ognuna ha un suo ruolo ognuna svolge una certa funzione e tra l'altro significa dietro ciascuna di queste cose in realtà quasi sempre c'è un linguaggio di programmazione diverso quindi chi lavora in questo campo è poliglotta nel senso che deve conoscere essere diciamo così fluente in diversi linguaggi di programmazione contemporaneamente non ci piace non è che ce ne vantiamo se io potessi domani far così e dire ok reinventiamo il web da zero basandolo su tre linguaggi soli lo farei solo che nessuno oggi può scalzare questo sistema proprio per la massa che ha per i numeri che ha quindi è una cosa su cui si sono andati ad aggiungere ad aggiungere stratificare complicare cose e non c'è nessuno che possa avere la forza di ripartire da zero dicendo semplifichiamo gli unici che hanno provato ma questo è un discorso che mi porta lontano che non voglio fare qua gli unici che hanno provato a ricostruire su basi più semplici e molto più limitate sono che ne so immaginate i vari facebook di turno che però tendono a dirvi ci sono meno tecnologie più semplici di sviluppare ma stai qua a casa mia e basta sono gli ecosistemi chiusi che possono permettersi di fare le scelte tecnologiche diverse ma sono chiusi tu lavori solo lì dentro punto mentre invece web è stata pensata da sempre come piattaforma aperta ecco tra l'altro a proposito di aperta nessuna di queste tecnologie è a pagamento sono tutte tecnologie gratuite pubblicate liberamente utilizzabili liberamente senza royalty da parte di nessuno e questo è ciò che ha permesso a varie aziende di costruire dei browser di costruire dei server web delle tecnologie aggiuntive perché non dovevi chiedere il permesso a nessuno per farlo non dovevi pagare le royalty a nessuno per farlo quindi come una base di tecnologie free possa dare diciamo così supporto a tutta una serie di business essenzialmente che sono nati sopra ok questo è un po' il messaggio che io trago da questo grafico complicato queste tecnologie poi tra l'altro a loro volta si organizzano su più livelli noi ci immaginiamo un sito web fatemelo banalizzare molto un sito web è un modo per permettere agli utenti di vedere i dati che sono dentro un database cioè alla fine tutto il casino che facciamo è per permettere a quei dati che sono dentro un modello concettuale di essere visti usati e modificati da un utente secondo certi processi secondo certi meccanismi eccetera eccetera secondo certi vincoli tutto quello che vogliamo ma alla fine vogliamo permettere a un utente di vedere o modificare a manipolare dati quindi ai due estremi c'è sotto i dati e come sono gestiti i dati i dati sono gestiti dentro un database dentro delle basi dati e sopra dal lato opposto l'utente l'utente che usa un browser per accedere a una qualche applicazione che gli permette di manipolare quei dati il browser e i dati non sono nello stesso posto cioè non devo andare a Roma per vedere i dati di un ministero anche se il server fisicamente è lì forse o chissà dov'è installato perché c'è di mezzo internet internet è intesa come giusto che sia come rete di connettività quindi internet e web sono due cose diverse chiaro internet è ciò che dà la connettività il web è una possibile tecnologia che ci permette attraverso internet di accedere dei dati costruiti delle applicazioni creare delle interfacce e così via quindi internet è quello che permette a un browser messo ovunque sul mondo di contattare qualunque server web messo altrove nello stesso mondo per ora siamo limitati a un mondo solo questo era il pensiero originario del 1991 un browser da qualche parte un server dall'altra in mezzo internet ci scambiamo dati ciò che sta sotto e quindi c'è questa tecnologia del browser questa tecnologia del server web che sono i due lati che servono per scambiare dati uno verso l'utente l'altro verso il server in mezzo c'è questo livello che qui ho chiamato application server il server web è un livello software che gestisce il protocollo HTTP quando un browser adesso poi lo vediamo più in dettaglio fa una richiesta di una pagina web questa richiesta scritta nel linguaggio HTTP viene mandata a un server web questo server web è capace di comprendere il protocollo HTTP quindi comprende la richiesta e fornire una risposta questo server web che è un componente standard non lo faccio io per il mio sito è uguale per tutti perché di fatto l'unica cosa che deve fare è capire e implementare il protocollo HTTP non sa lui se il dato che tu gli hai richiesto esiste e se tu hai il diritto di vederlo e se puoi modificarlo se puoi visualizzarlo come fa a saperlo allora di mezzo ci vuole uno strato software questo application server che implementi gli algoritmi le logiche i percorsi il nostro diagramma di processo sta lì nell'application server che ti dice dopo che hai fatto una cosa qual è quella successiva chi può fare cosa e quando a quali condizioni perché le richieste web sono tutte richieste libere get dammi quella cosa no adesso non te la do perché prima non hai fatto quell'altra forse per il web server alla richiesta get risponde sempre sì l'application server sotto gli dice no attenzione che questa richiesta devi rispondere in questo modo o in quest'altro modo quindi la vera logica dell'applicazione sta nell'application server e ovviamente nei dati nel database che sono se vogliamo le controparti fisiche del database del modello concettuale e l'application server del modello di processo questa è la piramide standard dov'è che andiamo a programmare il web e lo programmiamo qua dentro poi non è vero più complicato di così ma in prima istanza lo programmiamo all'interno dell'application server tutti gli altri sono componenti standard il browser mi scarico file mi scarico chrome internet pago un total al mese al mio provider di connettività e me lo danno già fatto funzionante il database server uso mysql postgres oracle quello che è è un prodotto standard sono tutti prodotti standard tranne l'application server dove cominci il nome application c'è la mia applicazione che gira fare il sito di hackathon o l'e-commerce di prosciutti è uguale salvo per il codice che gira qua dentro dentro il livello applicativo poi ci sono gli altri pezzettini che ho messo qua questo servizio di terza parte ci fa ci intuire che i vari siti web non sempre hanno tutta l'informazione che gli serve al loro interno nel loro database e quindi a volte l'application server nella maggior parte dei casi ti fornisce una vista la possibilità di operare sui dati che tu possiedi ma a volte può anche basarsi su dati di terzi che sono se tu all'interno di un sito hai una funzione di pagamento devi appoggiarti su qualcun altro se vuoi nel tuo sito far vedere il meteo non è che c'è il meteorologo tuo dipendente che ti fa i calcoli compri il servizio da qualcun altro e lo integri all'interno delle tue pagine quindi da qualche parte hai informazioni tue ma anche informazioni non tue così come chi fa richieste web molto spesso o comincia a essere sempre più diffuso il fatto che chi faccia la richiesta web non sempre è un browser con dietro un omino che schiaccia i link ma la tecnologia web è così diffusa così facile da usare che se devo collegare un oggetto A con un oggetto B uso HTTP per cui se voi andate in stazione e vedete i quadri che dicono di quanto è in ritardo il vostro treno quel coso lì dentro c'è un piccolo computerino che parla in HTTP con un server delle ferrovie da qualche parte che gli dice quale messaggio scrivere quello non è un browser con un omino che va a navigare e va a vederci Facebook sul tabellone della ferrovia è un dispositivo che dentro ha un client HTTP un client web che dal punto di vista del server web è indistinguibile da un browser perché alla fine fa richieste HTTP GET e boh quindi di fatto diventa questa tecnologia web viene usata chiaramente per sviluppare applicazioni web ma è anche la base per tutto diciamo così anche quello che adesso chiamano l'internet delle cose la possibilità di far parlare tra di loro oggetti che guarda caso sfrutta questi protocolli perché ci sono stati 25 anni di evoluzione fortissima su librerie framework eccetera per poter programmare in questo ambito e quindi vengono riusati ovunque possibile perché è già tutto fatto quasi tutto fatto quasi gratis questo è il quadro generale in cui ci muoviamo ma poi com'è sto HTTP come funziona salto alcuni dettagli allora funziona ma noi lo usiamo tutte le volte che facciamo un click cioè voi quando vi volete scaricare i lucidi andate su questo sito andate a cercare i lucidi delle lezioni ok cosa vuol dire vado su un sito istruisco un browser a mandare una richiesta a un server e aspetto che dal server arrivi la risposta ok come faccio a istruire il server a mandare una richiesta ho due modi o scrivo un indirizzo qua sopra e batto invio oppure clicco su un link qualunque questo link è associato lo vedete nell'ultima riga lì sotto a un certo indirizzo quindi l'indirizzo o lo scrivo io o qualcun altro l'ha scritto per me all'interno di una pagina e cosa capita quando schiaccio quel link e per vederlo andiamo a sbirciare dentro il browser tutti i browser moderni hanno un menu sviluppatore strumenti sviluppatori cose del genere sia Chrome che Internet Explorer che che Firefox eccetera tra cui c'è dentro tutta una serie di strumenti di sviluppo che ci permettono di capire cosa sta facendo il browser servono per chi sviluppa applicazioni web per debaggarle per controllarle allora tra le varie cose che posso controllare c'è questa network che ci interessa in questo momento che traccia i messaggi che il browser scambia con vari server web sulla rete quindi quando io clicco qua ad esempio qui capitano cose allora con il linguaggio di tutti i giorni diciamo ho cliccato su un link si è aperta un'altra pagina yes cosa vuol dire ho cliccato su un link ha fatto sì prima riga qua ha fatto sì che il browser inviasse un comando get appunto secondo il protocollo HTTP a questo server che è lo stesso server su cui c'era la pagina precedente in questo caso il link era un link interno al sito non era un link che mandava un sito esterno richiedendo all'interno di questa pagina all'interno di questo sito richiedendo questa pagina questo ha parole cioè quando ho fatto quel link il mio browser ha capito per favore chiedi a quel server quella pagina e il mio browser cosa ha fatto? ha mandato una richiesta che è questa chiudate che non riesco questa qua che vedete qui queste righe qua adesso qui purtroppo non c'è modo di vederlo in modo più grezzo fatemi fare più spazio questi sono i comandi che hanno fatto parte della richiesta get del che il browser ha mandato al server cioè praticamente quando ho cliccato su quel link il mio browser ha confezionato un pacchetto di quanti saranno questi qua guardate l'ultimo pezzo quello colorato 150 byte 200 byte 7-8 righe in testa davanti a tutte questo qua non te lo fa vedere c'è scritto get questo indirizzo qua http 1.1 la prima riga purtroppo non te la fa vedere seguita da queste righe qua e questo è un pacchetto di testo sono 8 righe di testo che il mio browser ha preso e ha mandato su internet dall'altra parte del mondo non è vero è solo lì ma farò stesso questi byte lì dentro c'era un server web c'è un software che si chiama server web che risponde a quell'indirizzo elite.polito.it all'interno del quale c'è un documento che risponde a questo news 420 bla 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 che è il nome della pagina il nome del file e il server ha risposto ha risposto così ha risposto in realtà la risposta è fatta di due parti il protocollo HTTP prevede due parti la risposta è fatta di una serie di intestazioni request scusate response headers e da un contenuto vero e proprio il contenuto cos'è? il contenuto è una pagina HTML quindi l'utente clicca il browser fa un pacchetto di dati che descrive la richiesta dell'utente questo pacchetto di dati fa il giro del mondo arriva un server il server riceve questa richiesta la interpreta e risponde fornendo un documento HTML questo documento HTML arriva al browser il quale lo mette in bella cioè se qua c'era scritto dentro questo documento personalizzare ecco dentro l'HTML da qualche parte ci sarà scritto personalizzare find ma qui non funziona il find qua in questa finestra troviamo troviamo eccolo qua personalizzare lo trova in mezzo tanti altri comandi questo è il linguaggio HTML questi vari tag questi comandi no? che chiamiamo come tag vedete H2 div button span ul ul sta per lista puntata non numerata H2 sta per titolo di livello 2 A sta per link ma non stiamo qua a imparare l'HTML non ci interessa è una codifica che mescola il testo che scrive nella pagina con delle istruzioni di formatazione di quel testo per cui questo è un titolo e questo è un testo normale perché questo è dentro un H2 e il testo normale è dentro un paragrafo che si chiama P se noi vogliamo conoscere meglio l'HTML c'è quest'altro strumento che si chiama Inspector che ti permette di andare in un certo punto della pagina e ti evidenzia qual è il frammento di HTML corrispondente a quel pezzo di pagina quindi ti mette in correlazione in tempo reale la pagina visualizzata con l'HTML che l'ha generata chiaramente per chi fa il web designer è fondamentale ma noi stavamo parlando ancora di HTTP quindi il browser ha fatto una richiesta il server ha risposto dicevamo che c'era anche un'intestazione nella risposta c'erano degli header della risposta vogliamo andare a vedere un po' i dettagli di che cosa è stato richiesto e cosa è stato risposto il browser ha chiesto dammi quella pagina il browser si è presentato vedete l'ultima riga qua user agent chi sono io qual è il linguaggio con cui è stato installato questo browser e quindi quando voi vi collegate a un sito vi compare in italiano un inglese un'altra lingua è perché il browser dice al server guarda che questo signore ha installato la versione inglese la versione italiana e quindi probabilmente vuole un sito in quella lingua se vuoi caro server puoi gzip comprimere i file che mi mandi così spendo meno byte sulla rete e un po' di dettagli di questo genere e il server dice ah caro browser io mi presento questa è una versione del server ti restituisco un contenuto di 16000 byte compresso con gzip e questo contenuto è in formato html lo vediamo qua html la data in cui te lo fornisco è questa e pochi altri dettagli quindi si scambia un po' l'informazione per gestire la richiesta questo si chiama content negotiation cioè negoziazione del contenuto la forma in cui avviene questo contenuto e poi c'è il contenuto del proprio cosa succede però è che l'html è un linguaggio testuale che permette di specificare solo del testo ma in questa pagina non c'è del testo ci sono delle immagini ci sono dei colori ci sono delle animazioni e queste in html non si possono descrivere perché il linguaggio non è stato pensato per quello allora cosa succede che dentro l'html ci sono dei comandi per richiamare altri tipi di contenuti richiamare questa immagine richiamare questa immagine richiamare queste due immaginine che sono qua sono piccole ma ci sono anche loro questa immaginina che indica la freccia per il menu eccetera eccetera che non possono far parte dell'html che è un file di testo ma devono vengono salvati come file separati all'interno dell'html ci sarà andiamo a vederlo ispeziona qua un comando che si chiama img quindi dentro l'html c'è un tag tra i vari tag c'è un tag image img che indica l'indirizzo di un file sempre su web che contiene quell'immagine allora l'html cosa sta dicendo? sta dicendo guarda a questo punto serve questa immagine te la vai a scaricare là il browser obbediente quando riceve l'html leggi i contenuti si accorge che a un certo punto è richiamata un'immagine e quindi in automatico senza che tu debba fare nulla fa una serie di altre richieste quando noi abbiamo fatto un click noi avevamo intenzione di fare la prima richiesta ma il browser non ne ha fatta una ne ha fatte 21 la prima mi ha dato l'html quelle successive mi hanno dato ad esempio questa immagine eccola qua l'immagine che è restituita un file tipo png un'immagine altre richieste questa è un'altra immagine è un puntino uno per uno trasparente vabbè e altri tipi di contenuti css sono i fogli di stile che servono per definire il layout e i colori della pagina js sono i sorgenti i programmi in javascript che permette di definire le animazioni all'interno della pagina e così via sono tutti contenuti che sono richiamati dall'html e servono per completare la pagina quindi ogni volta che voi fate un click fate sempre una richiesta principale la pagina e poi quando questa pagina arriva al browser il browser va a cacciare tutti i pezzettini che gli mancano che sono scritti dentro l'html ma che risiedono in file separati poi il browser mette insieme il tutto e lo presenta in bella questa pagina è stata ricevuta in due secondi e mezzo che è tantino per una singola pagina in realtà l'html ce l'avevamo già in pancia dopo 400 millisecondi gli altri due secondi sono serviti per andare a prendere gli altri pezzi che ci mancavano perché? perché magari sono file troppo grossi perché la connessione è lenta va a sapere perché se uno ha un problema di velocità deve andare qua a capire perché ci sono tante richieste sono pesanti eccetera l'intera pagina è pesante un megabyte 983 kilobyte per una pagina ma dice che in realtà solamente 72 kilobyte sono stati trasferiti perché questa pagina io l'avevo già visitata in passato quindi il browser si era già salvato nella sua cache buona parte dei contenuti noti e sono tutti i meccanini di ottimizzazione del browser tutte queste cose viaggiano sempre che dicevo su HTTP vedete che qui c'è sempre quasi sempre scritto get 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 tranne post in questo caso ma è raro sono tutti i comandi di questo tipo il protocollo HTTP vabbè questo l'abbiamo visto è uno scambio di messaggi di questo genere quindi a livello di architettura di sistema cosa abbiamo? questa figura qua la costruiamo poco per volta adesso siamo nel 1992 ok? il web all'inizio avevi un browser e un server web e qualcuno che ha scritto un file html allora il browser conosce l'indirizzo della pagina l'indirizzo è una parte host e una parte file prima c'è il nome del server poi c'è il nome del file all'interno del server e attraverso questo indirizzo sa contattare il web server giusto e il web server sa scaricare il file che serve che corrisponde alla richiesta e mandare indietro il contenuto quindi c'è una richiesta HTTP che contiene essenzialmente l'indirizzo di ciò che voglio e la risposta HTTP che contiene essenzialmente il contenuto del file che in prima battuta è un file html eventualmente questo file html fa riferimento delle immagini che verranno richieste una per una di nuovo dal browser al web server e ritrasferite come contenuto del file quindi il contenuto di solito è un file html ma può anche essere un file immagine poi cosa fa il browser dentro di sé il browser ha un motore di layout di impaginazione che sulla base dei comandi html delle immagini che ha ricevuto delle dimensioni delle immagini e così via della dimensione della finestra del computer te lo impagina in modo opportuno te lo fa vedere e tu o meno puoi con la tua tastiera col tuo mouse vedere a schermo le pagine e puoi interagire con le pagine stesse questo è il cuore ciò che segue sono state una serie di complicazioni che hanno reso da un lato che hanno reso sempre più le pagine web dinamiche perché in questa architettura l'unico modo per cambiare una pagina il contenuto di una pagina è che un omino di santa pazienza vada a modificare questo file html e quindi quando io col browser tornerò sullo stesso sito vedrò un contenuto nuovo perché il file è stato modificato ma se questo fosse davvero un file come c'è scritto qua una volta che l'hai scritto non cambia più da solo invece noi vogliamo dei siti che evolvano se io vado a vedere il gmail voglio le mail di adesso non quelle di un mese fa perché nessuno nel frattempo è andato a cambiarle cambiano da sole che vuol dire da sole? vuol dire che dietro c'è l'application server che fa sì che queste cose cambino qui non c'è nessun application server l'unico software che c'è è un browser che è un componente standard noi con lo stesso browser navigate tutti i siti il componente lì non dipende dal sito che navigate ma anche il server web è un componente standard di server web al mondo ce ne sono pochi software questa è una sì è una un grafico che riporta la giornata 2016 poi se andate a questo sito ogni sei mesi giù di lì lo aggiornano che riporta qual è lo share la percentuale di siti perdon la percentuale di siti sì che usano come web server uno di questi prodotti è un pochino più interessante questa seconda che si restringe ai siti attivi cioè che sono stati aggiornati di recente non semplicemente pubblicati abbandonati questo fa vedere che il circa 50% dei siti al mondo usa lo stesso software web server Apache qualunque cosa facciano questi siti il componente web server e dell'oro architettura è lo stesso questo è un progetto open source che è attivo da sempre praticamente dai primi web server degli anni 90 95 94 se non sbaglio e è sempre stato il software preferito o più utilizzato da chi crea siti web e poi ce ne sono altri che hanno uno share intorno al 10 20% questo qua verde che è in forte crescita e questa crescita del verde è abbastanza associata al declino del blu di Apache è Nginx che è un altro server web open source gratuito molto più semplice di Apache Apache cresce essendo un progetto che va avanti da 20 e più anni anche lui ha raggiunto un livello di complessità elevata quindi fa mille cose però facendo tantissime cose a un certo punto perde un po' in prestazioni in semplicità di configurazione quindi sono ripartiti da zero con un web server che fosse più leggero più veloce anche se aveva meno opzioni meno possibilità di configurazione rispetto alla Apache ed è nato Nginx che via via sta rapidamente devo dire conquistando quote di mercato chiamiamolo mercato sono prodotti gratuiti e basta nel senso che c'è stato per un attimo Microsoft che sembrava col suo internet information server che a un certo punto ha messo gratis in tutte le versioni di Windows poter attaccare questo poter attaccare lo share di Apache ma poi è morto i server della Microsoft stessa girano la sua pagina sul loro server proprietario la Google stessa a un certo punto sapete Google Sites potete crearvi un sito su Google e si vede da quando? dal 2007 potete crearvi dei siti su Google c'è un suo server che è testato intorno al 10% quindi una cosa relativamente minima bloggeri i vari blog che avete su Google sono fatti con quella tecnologia lì allora noi abbiamo non so darvi il numero qui c'è un altro un altro grafico ancora più ridotto su un sotto insieme di siti un milione di siti quelli con il maggior traffico al mondo e questa è ancora più semplificata è ancora più transciante questa figura insomma ti fa vedere Apache e Jinx che sono i due che messi insieme ti danno 40 più 30 70% e oltre del mercato abbiamo un milione di siti che alla fine si dividono due software soli questa è la forza di un prodotto standard il server web che gira che fa girare un sito è uguale a quello che fa girare l'altro anche se i siti sono radicalmente diversi la differenza sta nell'applicazione che creiamo il web server serve a gestire il protocollo HTTP gestire tutte queste chiamate che avvengono ogni volta che cliccate su una pagina nel modo più rapido efficiente veloce possibile lui punta alla efficienza alla velocità nel gestire il protocollo HTTP cosa sia quel contenuto cosa ci sia dentro quell'HTML il server web non lo sa non gli interessa lui vuole solo farlo spedire in fretta a chi interessa qual è il contenuto dell'HTML al browser che lo deve far vedere e impaginare bene e all'application server che l'ha creato a chi ci ha messo i contenuti dentro per cui il passo dopo è quello di far sì che le pagine web i file HTML non siano file veri e propri che qualcuno ha scritto a mano ma siano generati dinamicamente al volo ogni volta che faccio un click c'è un software che gira e mi crea quella pagina HTML con i contenuti aggiornati al momento contenuti i quali vengono mandati indietro al browser il browser la visualizza e poi quella pagina viene dimenticata cancellata se faccio aggiorna tutto ricomincia da capo e questo software gira di nuovo e genererà una nuova pagina HTML probabilmente è molto simile a quella precedente ha cambiato poco tempo ma è comunque una nuova che viene di nuovo mandata e così via e questo è ciò che ci permette quando navighiamo un sito di vedere sempre le informazioni aggiornate senza la necessità dell'intervento di una persona che fisicamente lo faccia salto i dettagli tecnici questo significa che nella nostra architettura abbiamo giunto un livello il file HTML non è un file che esisteva lì ma è un file virtuale che viene creato da un'applicazione software è l'applicazione software la web application che personalizza tutto decide cosa c'è nell'HTML decide quali immagini includere decide quali fogli di stile includere eccetera eccetera è lì che avviene lo sviluppo dell'applicazione se vogliamo la scelta del server web è un lavoro sistemistico predisporre la piattaforma per servire le pagine web l'applicazione web è un lavoro di programmazione nell'applicazione web l'applicazione web può essere scritta in tanti linguaggi di programmazione diversi cos'è questa applicazione web è un pezzo di software che ogni volta che arriva una richiesta al server web il server web dice ah il browser è il tale di quell'utente mi ha chiesto il file meteo.htm allora cara applicazione web mi dai il file meteo.html ogni volta che arriva una richiesta al web server o la richiesta è relativa a un file statico che so un'immagine allora il web server se la va a prendere da solo non ha bisogno di nessuno o è relativa a un file dinamico cioè da generare sul momento e allora il web server non può soddisfare questa richiesta passa la palla all'applicazione server quindi ogni volta che un utente richiede un contenuto dinamico tipicamente una pagina html nuova questa richiesta andrà passerà all'applicazione web che qualcuno ha scritto in un qualche linguaggio di programmazione questa applicazione web riceve la richiesta il suo unico scopo nella vita è creare un file che contenga l'html della risposta e poi morire la richiesta successiva è un'altra a livello così di statistica questi sono i linguaggi trovata una statistica del del 2016 se non sbaglio che dice qual è la percentuale dei linguaggi in cui sono scritti i siti web adesso come tutte le statistiche a seconda del campione che scegliete potete far vincere il linguaggio che volete perché questo qua mi giura i siti web quindi il sito microsoft.com e il sito miazia.it vengono contati uno entrambi è giusto contare i siti è giusto contare le pagine pubblicate è giusto contare il numero di utenti è giusto contare i gigabyte trasferiti è giusto contare quello che vuoi far uscire cioè le statistiche non sono mai neutre però per dire che alla fine ci sono tre linguaggi che se la giocano con i quali chi sviluppa applicazioni web scrive il codice del proprio sito PHP che è questo è un linguaggio di programmazione un po' simile al C relativamente semplice da usare troppo semplice da usare per cui c'è gente che pasticce fa casino Wordpress è scritto in PHP e Wordpress gestisce la maggior parte dei blog del mondo Joomla è scritto in PHP che gestisce l'altra metà dei no poi c'è ancora Drupal che sono il terzo sistema di gestione dei siti sono tutti e tre scritti in PHP quindi molti siti che si appoggiano su uno di questi framework Wordpress Joomla o Drupal alla fine sono scritti in PHP poi c'è la parte Microsoft se voi sviluppate un'applicazione con tecnologie Microsoft usate il framework ASP.NET e quindi usate C Sharp oppure Visual Basic.NET come linguaggio di programmazione e a questo punto ci vuole un web server Microsoft oppure sviluppate all'interno di un application server che si chiama Java Enterprise un'applicazione scritta in Java se andiamo a vedere nel mondo enterprise nel mondo aziendale quindi siti aziendali questi tre numeri tendono a invertirsi cioè nel mondo enterprise Java fa la parte da padrone molto più che non PHP proprio per la sua facilità ad andarsi ad integrare con tutti i back-end legacy con tutti gli altri server che ci sono all'interno dell'azienda mentre invece PHP se non è un linguaggio molto più leggero va bene per fare sito indipendente stand alone che non necessariamente si integra con un ciclo di sviluppo più complesso con altri server più complessi quindi queste statistiche sono per siti diciamo così consumer facing se voi andate a vedere a livello enterprise Java la fa la parte da padrone poi c'è la tecnologia Microsoft e anche ovviamente PHP però se la dividono un po' forse un terzo un terzo un terzo ecco come peso macroscopico le altre sono cose che se vogliamo non fanno numero o sono mode temporanee o comunque linguaggi con cui si possono sviluppare l'applicazione ma non sono il grosso dei contenuti su internet allora con questi linguaggi riusciamo e questo è un altro grafico che fa vedere la stessa cosa sotto forma di torta con in più questa torta che viene divisa all'interno di Java tra i vari prodotti software di cui il primo Tomcat è gratuito tanto per cambiare con cui si possono sviluppare applicazioni in Java di tipo web allora qui ci siamo spostati dal 1991 al 95 circa questa applicazione che poi fa le query al database e ci visualizza le nostre pagine ok il prossimo passo sarà quello di compiere insieme il viaggio dal 95 al 2015 diciamo gli ultimi 10 anni in cui lo sviluppo si è concentrato anche sul lato client sulla parte di interattività dinamicità lato del browser perché il browser finora non l'abbiamo toccato abbiamo solo aggiunto roba sul server per creare con più potenza con più intelligenza le pagine HTML giovedì facciamo questo viaggio insieme grazie a tutti